Profumeria Rouge Noir via Cesare Battisti. Siamo con il titolare di questa attività commerciale. Sicuramente i cordoli, la installazione dei cordoli non hanno rappresentato certamente un beneficio traffico che impazzisce e vendite che ovviamente calano. Cosa è cambiato in queste ultime settimane da quando sono stati appunto sistemati, installati questi cordoli? Io partirei da una considerazione innanzitutto che stiamo attraversando un periodo di grossa criticità non soltanto per i cordoli e quindi il modificare o anche se migliorare una situazione spaventa il commerciante. In questa situazione con i cordoli chiaramente abbiamo avuto un abbattimento dei consumi, una contrazione dei consumi che va intorno al 20-25%, dovuto non tanto al fatto dei cordoli quanto alla difficoltà della viabilità lenta che si verifica su Cesare Battisti. Per cui la gente invece di arrivare in questi posti qua svia completamente la strada e ritorna indietro. Certamente è stata una decisione che rispetto alla quale non siete stati coinvolti è piombata così e si è detto questo è il cordolo, tenetevelo. Anche questo magari si è verificato e occorreva magari anche sentire i commercianti stessi fare un tavolo di concertazione, vedere un attimo quello che era possibile quali fossero le nostre proposte in merito. Per cui alla fine si è verificato tutto un tratto questa situazione. Io spero che magari ci sia un approccio diverso e come magari il parcheggio di Piazza Icco dopo che magari è stato migliorato da quella situazione che era fatiscente e c'è una situazione magari a questo punto. Deve essere tra virgolette pubblicizzato. Bravo, deve essere pubblicizzato. Ci vuole un'insegna molto aggressiva che indichi il parcheggio e poi pubblicizzata perché da noi non c'è la pubblicità. Magari anche delle tariffe basse che invitino il cliente a... Anche delle convenzioni da parte dei commercianti cui possono dare ai clienti e ai consumatori omaggio il biglietto per quanto riguarda il parcheggio.